Trova un lavoro velocemente. Affinché i numeri Grabovoi funzionino correttamente, è necessario attivarli. Per questo, ripeti con me. Io attivo la sequenza per ottenere rapidamente un lavoro, oggi. Con la fede che tutto è possibile in questo processo per ottenere rapidamente un lavoro. Ottengo una soluzione immediata ai problemi con questa sequenza, con l'aiuto del creatore e con grande armonia. Sono grato che il mio creatore mi aiuti in questo processo e mi benedica con il mio desiderio, con risultati positivi al 100%. Grazie, grazie, grazie. Ora ripeti la sequenza 28 volte. 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 2, 1, 8 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 4, 9, 4, 5, 1, 7, 6, 0, 1 5, 1, 8, 7, 0, 1, 8, 7, 0, 1, 8, 7, 0, 1, 8, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 Grazie a tutti